Allora, oh, 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 ah dove c'è c'è sto? Sono la tarbank, ah ok, qui dove abbiamo fatto la quest, giusto, sì Ah, però aspetta, prima di sca... prima di andare fuori Eh, fatemi andare su A vedere se trovo gli oggetti... pure Allora, eccoci qui con il... quello che è il... Eh, avevo detto che sì, giustamente io dovevo... dovevo saltare questa roba Ma invece che saltarla ho preferito fare come gli antichi Almeno vado avanti con l'ial, vedi? Giusto? Blocco la vitality, più vitality Allora, siamo in quello che è il secondo ride di questo wipe per me Ride numero dos Vediamo un po' che troviamo di buono Andiamo a compilare ancora parecchi quest Oh Sto sparando qua? Ok Il defurl mica male, eh Power bank, ok, ok, ok Bene Aspetta, qua posso scendere anche senza... anche facendo così, vedi Ok Ok Andrà all'Emercom Sento qualcuno sotto però Non so dove sia Emercom Ah, no, qua no Qua no Scaffega Scaffers Sfucking scavers È di là, vero? Se non sbaglio, sì Non credo che sia da quella parte Mi sa che non è da quella parte, giusto? No Dovrebbe essere di là Mmm Sì, credo che sia dall'altra parte Uh, senti qua, senti qua Ma si scannano di brutto Ok Andiamo Andiamo Ok No Mi fa saltare No, 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 no Cazzo Cazzo Eh Fuck Redizione Era one shot Ok Eh E mo E mo Mi voglio Oh, basta Questa tosse Qualcuno sa dove è la macchina? Di fianco a terra Gruppo Ovvero Ovvero C'è qualcuno sotto, ragazzi Fax Tra me e terra Gruppo Cioè Bella domanda, eh Hmm di Buddha fuck forse lì ah quello è terra group ok quello è terra group se quello è terra group devo andare lì ci provo yolo però sniperato sicuro run ok questa è una cucina oh dimmi che c'è qualcosa da mangiare no il latte è finto praticamente è qua giusto quindi eccola c'è qualcuno camperato sicuro mi devo andare per forza anche se non ho fatto praticamente niente a parte a parte un paio di kill ok e una è andata e una è andata a me l'abbiamo fatta anche una quest ho ucciso quel tizio lì ma non so dove andare a ruotare perché c'era l'amico che lo camperava e in più stava morto in mezzo al nulla quindi bene ok io devo portarmi un cms dietro non posso non portarlo è una scelta stupida non portarlo ora ok ok tutto house Grazie a tutti.